Con un messaggio postato direttamente su Facebook, l'eurodeputato molisano Aldo Patriciello da Bruxelles ha annunciato i nomi degli studenti molisani vincitori del concorso YouTube Racconto Digitale di 60 anni d'Europa. L'annuncio direttamente con un videomessaggio via Facebook. Questo il metodo scelto dall'eurodeputato Aldo Patriciello per comunicare da Bruxelles alle scuole dagli studenti molisani i nomi dei vincitori del concorso YouTube Racconto Digitale di 60 anni d'Europa. Il progetto, indetto in collaborazione con il Partito Popolare Europeo per celebrare 60 anni dalla firma dei trattati di Roma prevedeva la realizzazione di filmati di tre minuti che offrissero un punto di vista speciale agli occhi dello studente sul futuro dell'Europa. Una scuola che guarda l'Europa è una scuola che guarda il futuro. In un periodo di forte incertezza e grande difficoltà per l'intera Unione Europea credo che sia opportuno riavvicinare i nostri giovani alle istituzioni e accorciare così le distanze tra Bruxelles e i suoi cittadini. E' questo in definitiva il senso della nostra iniziativa che ho voluto promuovere e organizzare con la collaborazione del Partito Popolare Europeo. La grande partecipazione di voi studenti e l'altissima qualità dei lavori ha reso particolarmente difficile il compito della Commissione. La scelta finale è ricatuta su sette video, uno in più rispetto a quanto previsto nel bando di concorso. Questo perché, avendo Dugolassi ottenuto lo stesso punteggio al termine della valutazione, mi è sembrato opportuno non escludere nessuno e fare una piccola deroga rispetto al regolamento per consentire ai ragazzi di entrambe le classi di poter venire qui a Bruxelles per assistere ai lavori del Parlamento Europeo. Degli istituti Antonio Giordano di Venafro, Majorana Fascitelli, Cuoco Manuppella di Isernia, Scarano di Trivento e Pagano di Campobasso, gli studenti premiati. A loro i complimenti di Patriciello e, come annunciato dallo stesso europarlamentare molisano, un regalo davvero speciale, una due giorni di visita a Bruxelles per seguire i lavori del Parlamento Europeo. Vi saluto con affetto e vi do appuntamento qui a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. Un abbraccio a tutti voi.